Siamo a Parigi, salone dell'innovazione del food. Ovviamente Suavegel ogni anno lancia nuove referenze, quest'anno ne abbiamo lanciate diverse, per esempio il nostro panzerottino in lovo. Il panzerottino in lovo è un panzerottino dolce a forma di cuore con un delizioso ripieno di crema alla nocciola, particolarmente indicato per eventi ovviamente San Valentino ma non solo e devo dire che è stato molto apprezzato dai clienti che hanno avuto modo di assaggiarlo in questi giorni. Abbiamo anche altre novità che stiamo lanciando, i nostri aperi pasta. Sono degli aperitivi a base di pasta con due ricettazioni cacio e pepe e carbonara. Soprattutto per il mercato estero sono particolarmente interessanti queste referenze perché tutti conoscono il concetto della pasta, tutti conoscono queste ricettazioni. La nostra innovazione, la vera innovazione è poterli mangiare in un formato finger food, che è la vera innovazione e novità di questo prodotto verso Apicex. Un'altra novità interessante è il nostro arancino 2.0, è una rivisitazione dell'arancino base riso con una ricettazione tartufo, zafferano e un generoso ripieno di mozzarella filante. Siamo in una fiera internazionale e ci piace introdurre il nostro pasticciotto. Il pasticciotto è una ricetta tipica salentina ma sta diventando sempre più famosa in Italia e anche al di fuori dei confini nazionali. E anche durante questi giorni abbiamo avuto modo di far apprezzare questa specialità a tanti clienti esteri che non la conoscevano ma che hanno avuto modo di apprezzarla. Grazie. Grazie a tutti.